inizio la mia spa routine naturalmente mettendomi super comoda e quindi scelgo questo pigiamino con gli smiley e le emoji che io adoro coloratissimo e l'ho preso da asos poi leggo i capelli perché appunto voglio stare comoda e sono anche completamente struccata quindi non spaventatevi poi vado ad accendere alcune candeline profumate sapete quanto io ami le candele profumate specialmente se sono yankee candle e la summer scoop è consigliatissima ragazzi poi vado a scegliere un libro da leggere perché oggi ne inizio uno nuovo ed ho scelto questo di agatha christie io amo i gialli e amo agatha christie e poirò e poi inizio la mia skin care partendo dalle labbra uso questo bubble gum lip scrub di lash che ha un profumo è un sapore pazzesco lo assaggio sempre devo essere sincera poi sciacquo asciugo e vado ad idratare le labbra con questo balsamo labbra che sa di menta e non mi fa impazzire ciò però è molto molto nutriente e poi passo a foreo questa è l'una due ed è un prodotto che va a detergere la pelle in profondità se non lo conoscete prima applico il detergente naturalmente e poi passo l'una due che va appunto a purificare pulire detergere in profondità la pelle più di quanto potrei fare io con la mano e toglie anche residui di trucco eccetera ma io oggi lo uso più che altro per pulire la pelle in profondità poi sciacquo e vado a applicare la mia maschera di bellezza rido perché è una maschera di hello kitty che io ho preso a tokyo e notare il mio entusiasmo quando vado ad applicare questa maschera idratante di hello kitty appunto che io non potevo farmi mancare naturalmente poi la spiaccico per bene sul viso diciamoci la verità e vado a preparare la mia vasca da bagno che è immancabile un bel bagno è rilassante e vado a lanciare nell'acqua la mia sex bomb blush questa è una delle mie preferite perché naturalmente perché fa diventare l'acqua rosa poi siccome colora l'acqua ma non fa schiuma vado a spruzzare un po' di questo bagno schiuma dell'acquolina che ha un profumo di zucchero filato che è la fine del mondo e poi mi rilasso un po' leggendo il mio libro conciatta così con questa maschera gioco un po' con la schiuma insomma quello che facciamo tutti poi mi asciugo e torno alla mia skin care vado a togliere la maschera idratante l'ho lasciata per una ventina di minuti una mezz'oretta e poi siccome le mie ciglia sono sfigate e queste naturalmente sono extension purtroppo ahimè devo pettinarle ormai lo sapete e poi passo alla cura degli occhi quindi vado a stendere prima la mia crema idratante questa è its potent di benefit la uso da tantissimo ormai mi trovo sempre bene con questa crema e poi passo a iris di foreo questo è un dispositivo è molto particolare è molto curioso ma è un dispositivo che praticamente fa questo micro massaggio su tutta la zona del contorno occhi aiuta a togliere borse occhiaie io ho soprattutto il problema degli occhi gonfi che mi perseguita da sempre e questo mi aiuta molto a drenare quindi a togliere i liquidi che si depositano lì insomma quindi mi sgonfio gli occhi e poi passo naturalmente alla crema idratante per il viso l'unica che manca questa di studio 5 se non conoscete questo brand dateci un'occhiata e vado appunto a stenderla su tutto il viso piechiettando ma anche sul collo mi raccomando poi vado in cucina e vado a trovare i gattoni qui c'è gatto denver che chiacchiera come al solito gatta stellina nascosta ma accarezziamo e diamo qualche bacio anche a lei e poi mi preparo un buon te caldo questo kusmi tea spero si pronunci così non lo so è buonissimo e poi mi metto sul divano insomma comoda comoda naturalmente gatto denver si precipita e non so perché oggi voleva leccarmi le braccia e vedete è fissato proprio oggi quindi bevo un po' di sorsi del mio buonissimo tè ah questa è la cover di oggi voglio sempre farvi vedere le mie cover che so che vi piacciono poi vado un po' non posso nascondere che vado un po' anche sul cellulare e questo è tutto bacio grazie a tutti grazie a tutti